E se tutti dicete con Giga che parla oggi sono qui con un episodio di Mother Free Nella scorsa puntata, dopo aver scoperto che uno degli aghi è stato estratto e che sappiamo che dobbiamo andare a prendere gli altri Abbiamo ricevuto una telefonata dicendo che il prossimo ago è qui vicino ma serve una scimmia per aprirlo E siamo qui nel laboratorio di cercare quelle scimmie Ma allo stesso tempo c'è tipo una chimera molto pericolosa che si ci vede alla fine Yep Il problema? Ho Bonnie che è mezzo morto Oh ok, non l'ho te curato Eh sì, con uno di vita Eh sì, con uno di vita Oh cacchio Ciao Andiamoci Oh cacchio Quello è il segnale? Ciao Vieni Però sembra che ci sia una musica normale Quando lui è nella stanza Vediamo L'uscita è a sud credo E c'è un ascensore in questa stanza A dove c'è la sala crematoria Sala accessoria Sala operatoria? Sai la stanza Vabbè Ma come schia arriva? No non è la quattro Dove cavolo Oh qua siamo all'ingresso Beh nel bagno Non si è vicina E' in quella stanza Vero? Sì E' qui Scimmia? Sì Alcune sono passate da questa parte E' a dire il vero Perché Non le ho rincorse Dici? Ah La pancia mi fa male Sì Quell'ultima Quell'ultima Chimera O Kimura O come si chiama Me la Sbrigerei io Se non fosse per questo mal di pancia Sì Sì Suol dire che Non si può combattere Un mal di pancia Lascio il resto A voi Ci vediamo Per essere Di lavoratori Part time Lavorate sodo E' impressionante Ma dovreste Uscire Da questo edificio Più in fretta possibile Stufato di maiale Ci stiamo allontanando E' vicino Da questo Chimera E meno male Dobbiamo starci lontano Stiamo cercando solo Cimera Ciao Dannazione Immagino sia un rincore Finchè Non si arrendono A parte C'era quella musica lì Vuol dire Che è in quest'area Ah cacchio Speriamo che Questa modo Se ne va lì Via 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 Fai che non si è un vicolo Oh oh Quello lì vuol dire Aperta una porta Vero E se è in quella stanza Devo tipo correre Perché se viene qua Aspetta Quello scensore Va al sotterraneo Eh Allora Questa è la stanza Che stanza è Eh Semma esterno Ok Ciao scimmie Per favore Dai dai Vediamo L'uscita è a sud Questo è quello Ok Sì Allora Dobbiamo capire Per sono andate Le scimmie What off Ok Serviamo Tanto per Dove possono essere andati Fermo Allontanati Questo è il mio scondiglio Mie Siete andate verso Sta direzione Poi chissà dove Nope Uh oh Musica What Oh Ecco l'ho fatto a posto Non avevo capito Che ero stavo Ritornando indietro Dove siete Ciao Non mi ha visto Come faccio Uscire proprio Di qui Ah Ok Oh che cacchio Immagino che sia un modo Para girarlo Questo è sicuro Sì mie Dove siete andate Stavolta Eravate qui All'inizio Nope Oh Al momento Mi sto nascondendo Per diverse ragioni Sono un po' Occupata Al momento Potreste tornare In un momento migliore E dovevo attivare Quello Se non sbaglio Esatto Ecco perché Non trovo le scimmie Mi sono ricordato Della debolezza Della chimera Quindi mi sono fatto coraggio Per venire qui Questa è una chimera A batteria In altre parole Se spostiamo L'interruttore su off Si fermerà L'interruttore su off C'è un grosso pulsante sulla sua schiena Devi premerlo Avanti si è così Usa il cane come esca Grazie ragazzo Credo che sfrutterò Quest'opportunità per lasciare L'ambito militare E dedicare la mia vita A rendere tutte le creature viventi felici Oh, ti piace la mia idea? Grazie cane Mi dispiace Quella cosa dell'esca era solo uno scherzo Mi piace questo E' un malisto Hai capito male Sansa ha segnito il gruppo Non dimmi che però abbiamo preso l'enchi Ok Ok Comunque sì Non avevo fatto parola Ma sì Dottor Andrus è in questo gioco Il padre di Jeff In qualche modo è qua Probabilmente troveranno il senso Ma per il momento Tecnicamente non sappiamo perché E sì Ricordate la scimmia Mi aveva imparato la danza Ecco perché era la chiave Ah Sono sto un guido Ok No Niente elettricità Bene Dai Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Eh, guanti magici Eh, guanti Non so per cumatora Magari anche salsa La puoi indossare Va a vedere Per chi? No, non sono per nessuno Dei tre Ok Oh, buon dì Wow Grandioso Sei venuto per davvero Lucas Oh, ci sei anche Ci sei pure tu salsa È bello rivederti Non sapevo fossi vivo Oh E tu come stai Scemmia amata Salve Oh cielo Che ospiti adorabili Presentami a loro Ti dispiace? Eh sì, certo Loro sono i miei amici Lui è salsa La scimmia è questa La sua scimmia amata E lui è Lucas L'umano E quel cane è Bonnie, il cane Quindi tu sei il piccolo Lucas Ionia mi ha detto tutto di te Venite con me Vi mostrerò dove si trova l'ago Oh sì Quasi dimenticavo Lucas Questo è Doria Uno dei sette magipsi Mi ha salvato Pare che Questo fosse Il suo destino Le cose capitano Randomicamente Quasi come Ertband Adesso Dopo la caduta D-dell'aeronave Doria mi ha salvata Sembra che Una donna Incantevole Vestita Di rosso Sia apparsa A Doria in sogno E Gli abbia Predetto Che sarei caduta qui Questa storia Ero sicura Che Anche voi Stesse bene E Che vi avreste risvegliati presto Ammetto che Ero un po' preoccupata Per te Lucas Doe Dici che anche Duster Sta bene E La penso uguale Ionia Mi ha detto Che sareste venuti qui Lago che custodisce Che custodisco È sul fondo Di questo laghetto Il mio ago È un po' più Ostico Da estrarre Perché ci sono delle impronte Però È difficile Credere che tu Abbia davvero Il potere Di estrarre Gli aghi Ma prima che tu Possa provare Dobbiamo spostare L'acqua Da questo laghetto In quella buca vuota Conosci quel Laboratorio Chimera Che sta Dove Sti qui Dovrebbe esserci qualche C'è un frusaglia Che potrebbe aiutarci A questo A spostare l'acqua Perché Non cerchiamo lì Ok Devo di nuovo Ritornare lì dentro E sappiamo Che è stato Riattivato La chimera Nemici Tra l'altro Meglio farlo Da lì dentro Che no A parte Se è una tartaruga Non ricordo Più nulla Su di te Ma Saper i putti putti Libri Non serve Molto Senza Comotora Questa musica è abbastanza difficile Ad avere il ritmo Cambia spesso La Longevità Del Cosa Hai trovato Banana antica Ok Wow Cane pesci Giusto Hai incontrato Maiale Posseduto Te Non ti Conosciamo Adore di chimera Meccanica Odore di Debole al fuoco Odore di Dibole alla Stranezza P.K.Gelo Au Ovviamente Vi approfittate Di deboli No 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 Beh Meno Curi Ti Stesso Che Che cos'è Ha la testa Confusa Si difende Fai qualcosa a casa Apparentemente Non so se cura Alfa Basta per quello Quindi vai Con cura beta Puoi curarti Da solo Vero Uno scudo Oh no Il gadget Che dello scudo C'era tipo Duster Ok Quale scudo Ho usato Oh Fortale Sto maiale Stai diventando Un casino Sorry Se per Romper Mitrate Le palle No Grazie Oh Giovanotto Ti ringrazio Per prima Che cosa C'è Cerchi un modo Di trasferire Tutta l'acqua Da un lag Da un altro I tuoi occhi Giovanotto Sono gli occhi Di qualcuno Che ha Interpreso Una missione Molto bene Ti darò Una mano E cioè Mirate Ho portato Diverse chimere Che ho Sviluppato Prendi Quella Che Ritieni Sia La più Utile Per quello Che devi fare Quella È un Asciugatore È l'ultimo Modello Di chimera Asciugatrice Ed è Un sistema Di ispirazione A montore jet Asciuga In pochi attimi Anche I capelli lunghi Afro Pantaloncini E bellezza Sicura Ok Sei certo Di volere questo? Questa qua È la scelta Dello starter Madonna Ah Quella è È una chimera Piuttosto noiosa Nota come Chimera pompa È una creatura Straordinaria Ordinaria Utile Soltanto Per trasferire cose Da un posto All'altro È Tipo L'acqua Di uno stagno Sei certo Di volere questo? Probabilmente Quello che prenderò Però cos'è questo? Quelli sono i fratelli secchio Sono il risultato Dell'incontro Di tecnologie Di impasto Dell'ultimo griio E Argilloidi Questi ragazzi Lavorano Sado Sei certo Di volere questo? No? Ehm Ok Quindi probabilmente È questo Sì scelgo te Nuovo starter Oh Ci siamo Questo Risolverà Il nostro Dilemma Oh no Non dimmi Che farà Oh Guarda Come assorbe L'acqua Oh Oh Lo stagno Si sta Lentamente Suotando Ancora Ancora Oh Guarda 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 Come va Il Solo Vederlo Mi dà I brividi Oh Guarda Quanto adoro E passione Ha Ha un Atteggiamento Così sicuro Di sé Un vero talento naturale Che Casanova Fantastico Mister Pompa Eccolo È l'ago Uno dei sette aghi Che si Gillano il dragone Oscuro Che cosa Ok Puoi davvero Estrarre quel lago Non so Se Essere felice O in ansia Le emozioni Mi stanno Sopra Facendo Non posso Credere Di essere Qui Assistere Un altro Boom Ok Estrailo Adesso Con tutta La tua forza Proprio davanti Ai miei occhi Se questo Ago Verrà estratto Anche tu Svanirai Come Aolia Sì Esatto Perché Lago Non avrà più Bisogno Della mia protezione Lago Può essere Estratto Solo Quando Arriva Il momento Perciò Quando Lago Viene Finalmente Estratto Il momento È arrivato Noi Magipsi Abbiamo Vissuto In modo Da Accettare Con Gioia Questo Nostro Destino Quindi Non Preoccuparti Non Morirò Vado Solo Incontro Al mio Destino Sarà Una cosa Bella O Anche O Anche Tanti Bei Ricordi Perciò Sarà Anche Un po' Triste Estrailago Anche Qualcosa dentro Lucas si è risvegliato Lucas a prendere il potere PK Console Beta Questo è davvero l'inizio della fine Il momento è finalmente giunto Non immaginavo che qualcuno sarebbe venuto in questa dolce fanciulla per estrarre l'ago Sa sparire quando si è ancora giovani e belli? In un certo senso è una beatitudine Kumator Vai con il piccolo Lucas e assisti gli eventi fino alla fine Sto per scoprire nella pizze della mia giovinezza e esplodere Pensate a me ogni tanto ok? Ecco prendete questo come ricordo Oh cielo il tuo inventario è pieno Oh beh pazienza Il resto è nelle vostre mani Ho perso Ciao ciao Loro no Ma io che ne so che il live interno non deve essere pieno Madonna Ionia me lo ha detto tanto tempo fa Quando il dragone oscuro che dorme sotto quest'isola si risveglierà La vita e il tempo rinasceranno Non so cosa accadrà ma voglio assistere Agli eventi fino alla fine Lucas posso venire con te? Voglio andare con te Dobbiamo sbrigarci a tornare A trovare Duster e anche l'uovo di luce Perso di nuovo Kumatoras si è unito al tuo gruppo Salsa invece probabilmente non ci segue Salsa ci rivediamo dopo così tanto Dopo così tanto ma pare Se è di nuovo il momento di dirci addio Cos'è quello sguardo? Sei proprio una scimmia sentimentale Andiamo Andiamo a prendere il prossimo ago Tu e la tua amata Abbiate cura di voi Eh? Cosa c'è? Una noce? Per me? Hai ricevuto una noce? Grazie Alla prossima Se capiterà l'occasione No? Bene E questo vuol dire che non possiamo neanche più rientrare lì Non abbiamo la mappa Sì ce l'abbiamo effettivamente la mappa di questo posto Ok Vorrei trovare un salvataggio Se è fattibile What? Ehi 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 Fermo lì Dio un po' Dove credi di andare? Ha incontrato Mr. Squitty What the? Oh mio dio Non ho i pipì Che cacchio Gli sospitti attacca con un morso Sì I topi rimangono con quella dannata abilità Odore di debole al fuoco Odore di debole al sonno I topi in tutti i giochi Erban per qualche motivo Hanno questa cosa di fare attacchi critici facilmente Ok Però almeno sappiamo cosa sei debole No sì Spero di potermi curare dopo Attacca con un morso Ok Hanno un attacco debolissimo Però quello fa un attacco chiedicis è tantissimo Ok ciao Mi sono scritto e imparata la lezione Chiedo umilmente scusa per aver fatto il gradasso Nonostante la mia debolezza Giù in autostrada Ero veramente come il ratto più popolare Ma ora sono la parodia della presa in giro di un topo Faccio colpo sulle ragazze Ma non sono per nulla un decobattente Ma voi mi avete aiutato a ricordare chi sono Chissà come stanno Mia moglie e i miei sette figli laggiù in autostrada Abbiamo aiutati Wow Di colpo Ho nostalgia di casa Tornerò a casa Sì tornerò Tranquillo ti basta telefonare la mamma Non avrai più quello status Comunque Amico Io torno a casa Ma tu fa Fa attenzione Hai Grilla talpa Se hai intenzione di continuare ad andare ad est Scusa di nuovo È un avviso per qualcosa Va bene Allora Fermiamoci qui Sembra che i venti non finiranno lì Quindi Quasi che è tutto Alla prossima Che se vi è questa puntata Se vi è piaciuto like E arrivederci tutti quanti Ciao ciao